Bravo sei, in silenzio radio sei in uno del mio canale youtube tutti i miei social in descrizione riprendiamo quelle live domani 13.30 e in descrizione troverete anche tutte le mie collaborazioni se vi volete comprare giochi scontati controller personalizzati attrezzatura di gioco trovate tutte le mie collaborazioni in ebba e in controllers msa con tantissimi sconti e codice sconto ma partiamo subito perché vi devo dare un sacco di notizie vi parlerò nuovamente della beta di vanguard e vi parlerò anche del re dei cheater di warzone innanzitutto alcuni giocatori professionisti di call of duty avrebbero provato a quanto pare secondo le informazioni di ghost of hope e mother warzone appunto in anteprima la beta multiplayer di call of duty vanguard secondo i primi feedback sembrerebbe che il gioco prometta veramente molto bene vi ricordo che sia per quando è uscito mother warfare sia per quanto è uscito appunto cold war quando hanno provato la beta i giocatori professionisti non erano rimasti piacevolmente colpiti mentre quest'anno appunto hanno detto che i feedback sono positivi e confermano anche di essersi divertiti staremo a vedere vi terrò aggiornati una delle domande che mi state facendo di più in questi giorni vi ricordo che la beta inizierà il 10 di settembre in esclusiva appunto temporale perché è soltanto un'esclusiva temporale poi dalle 16 prenderà anche per le altre piattaforme su playstation mi state chiedendo come fare per giocarla se avete fatto il preordine fisico bene adesso vi spiego tutto quanto poi troverete i link con i dettagli nel caso in cui qualcosa non fosse chiaro sul mio canale di telegram allora innanzitutto se avete la versione digitale quindi ad esempio comprate il gioco su playstation store non vi serve nessun codice se invece adesso fate il preordine fisico come ad esempio potete andare da media world potete andare all'uni euro potete andare da game stop e vi daranno uno scontrino con un codice cosa fare con quel codice? dovrete andare sul sito www.callofduty.com in alto a destra troverete la sezione accedi lì farete il login con la vostra piattaforma di gioco sia playstation, xbox e pc ovviamente dove giocate poi dovete andare sul sito www.callofduty.com slash beta redem beta redem, redem con la doppia e centrale ovviamente è il sito che riporto ogni anno per riscattare la beta una volta che entrate in questo sito ma ci dovete entrare una volta che avete fatto il login vi chiederà il codice della beta come vedete nell'immagine la piattaforma di gioco dove appunto vorrete giocare la beta e la località dove vi trovate ovviamente Italia cliccate sul tasto sottoscrivi e vi apparirà la scritta congratulazioni grazie per aver riscattato il codice per l'accesso appunto alla beta di Call of Duty Vanguard adesso cosa accadrà? vi arriverà a ridosso della beta un'email quindi verificate che email avete abbinato al vostro appunto account di gioco su quell'email troverete appunto un nuovo codice quel codice andrà riscattato questa volta sulla vostra piattaforma ad esempio se andate su playstation nella sezione playstation store riscatta codice stesso discorso per battle.net stesso discorso per ovviamente lo store di Microsoft ovviamente ancora non sappiamo quando arriverà il codice della beta se ben vi ricordate l'anno scorso arrivò a molti giocatori addirittura un giorno dopo l'inizio della beta speriamo che quest'anno i server siano gestiti meglio spero che così sono riuscito ad aiutarvi appunto sulla questione adesso poi nel corso del video vi spiegherò anche i contenuti di quanto riguarda la beta per chi se li fosse persi nei precedenti video informativi ma vi ho detto che vi avrei parlato anche del re dei cheater come sapete nei giorni passati ragazzi c'è stato un cheater vi avevo riportato appunto lo screen che aveva realizzato ben 108 kill praticamente un utente che poi anche streama su twitch è arrivato addirittura al quinto account se non inizioso ieri sono rimasto appunto sul quinto account di twitch appunto dove streama utilizzando tutte le peggiori hack cheat e via dicendo bene appunto dopo aver concluso una partita con 108 kill l'ha incontrato G-Code e come sapete è un code partner e a quanto pare ragazzi ha scoperto un nuovo livello di evoluzione dei cheater come potrete vedere in questa breve clip il cheater in questione avrà attiva la visione notturna la visuale in terza persona quindi mentre lo stai aspettando appunto in terza persona ce l'ha direttamente automatica la possibilità mentre gioca anche di tenere la musica di tenere una sorta di background quindi può addirittura utilizzare la musica mentre gioca direttamente dalle hack e soprattutto un'altra cosa che abbiamo visto nei giorni passati lo speed hack quindi uno dei cheater se non il re dei cheater degli ultimi tempi perché dopo aver fatto 108 kill adesso sta portando anche tutti i nuovi evoluzioni dei cheat mamma mia che situazione imbarazzante fatemi sapere ragazzi qui sotto nei commenti che cosa ne pensate secondo un'analisi invece condotta da TrunGameData sulla modalità malloppo i server di Warzone funzionerebbero un tick rate di 20-24 hertz ovviamente più è basso appunto questo tick rate peggio è appunto la risposta di server cioè il flusso delle informazioni che appunto si scambia con il server più è alto invece più la questione è migliore vi faccio un confronto per spiegarvi meglio Apex Legend a 20 hertz ma lì parliamo di 60 giocatori Blackout aveva 20 hertz ma aveva 100 giocatori Fortnite 30 hertz 100 giocatori PUBG 60 hertz 100 giocatori e Warzone appunto come vi ho detto tra i 20 e i 24 e si parla appunto di 150 giocatori quindi situazione veramente molto molto strana speriamo che con l'uscita del nuovo Call of Duty sistemi un po' la questione la mossa finale invece la T-Bag è stata rimossa dai file di gioco e non verrà mai più rilasciata questo è stato riportato appunto da Elvis Codd vi faccio vedere praticamente appunto la clip che mostra questa mossa che è veramente molto carina quindi è entrato a far parte appunto dei contenuti tagliati di Modern Warfare non la vedremo più ma quindi cosa giocheremo nella beta che inizierà il 10 poi ovviamente a ridosso della beta tornerò con un nuovo video con tutti i cambiamenti le novità e appunto un recap nuovamente della beta allora ovviamente potremo rigiocare tutte le arene con la modalità che abbiamo giocato Alpha la collina del campione poi avremo quattro nuove mappe ma queste le potremo giocare ovviamente inizia contro 6 e parliamo di Hotel Royale Gavutu Red Star Eagle Nest questa arriverà nel weekend 2 come modalità ovviamente solo due trio della modalità collina del campione deathmatch a squadre dominio uccisione confermata cerche e distruggi che arriverà nel weekend 2 e petrol che è una nuova modalità simile a postazione ma con le postazioni mobili il livello delle arni sarà bloccato al 30 i giocatori PlayStation riceveranno due loadout aggiuntivi rispetto ai 10 base previsti su tutte le altre piattaforme e avremo anche accesso a tutti gli operatori al momento disponibili ognuno con una mossa finale diversa e parliamo di Yatsu Zemet Rix Polina Petrova che era la cecchina che vedevamo nell'easter egg del finale della vittoria appunto di Warzone Wade Jackson e Arthur Kingsley Rix Petrova Jackson e Kingsley per chi non lo sapesse sono i 4 protagonisti della campagna di Vanguard che sta passando anche in sottofondo chiudiamo con un'altra importante notizia sempre relativamente alla beta avrete la funzione combat pacing che vi permetterà di scegliere l'intensità delle partite già nella beta avremo la possibilità di provare questa funzione i 3 livelli sono tattico assalto e blitz tattico ovviamente 6 contro 6 quindi il classico code assalto combattimento bilanciato da 20 a 28 giocatori nel weekend 1 di beta e poi avremo lobby ad alto tasso di azione con combattimenti frenetici e costanti dai 28 ai 48 giocatori questo accadrà nel weekend 2 di beta questo era veramente tutto quello che volevo dire il nuovo video informativo domenicale sul mondo di Call of Duty lasciate un bel video ci arriviamo a 500 iscrivetevi se siete nuovi per non perdere tutti i prossimi appuntamenti perché prossima settimana avremo la beta avremo il reveal del multiplayer avremo la season 5 reloaded quindi non perdetevi i prossimi video informativi con appunto tutti i changelog tradotti in italiano le novità e via dicendo noi ci vediamo domani invece qui su youtube ore 7 con un nuovo T G COD l'escrivetevi l'escrivetevi Grazie a tutti